Ciao a tutti ragazzi, sono Ina Tommaso e faccio parte dei migliori dei migliori. Oggi vi insegno come attivare e disattivare la chat dal vivo nelle vostre Premiere, nelle vostre Premiere oppure eventualmente anche nelle Live. Basta che andate per pubblicare un video. Aspettate un attimo. Ok, adesso quando è ora di pubblicare il video? Io vi faccio vedere come disattivarla e attivarla nelle Premiere, però funziona anche con le Live. Allora, voi qui mettete il titolo, la descrizione, tutto. E poi andate su pubblico, mettete in posta Premiere istantanea. Vabbè, sapete come si fanno le Premiere perché ve l'ho già insegnato. Ve l'ho già insegnato in un altro tutorial. Se non avete visto il tutorial su come si fanno le Premiere ve lo lascio qui sotto in descrizione. Voi impostate l'ora che volete. Io faccio un'altra ora perché quell'ora ho un'altra Premiere. Chi se ne frega dell'ora. Fate avanti. E adesso viene il dilemma. Allora, se mettete no destinato ai bambini, viene così. Premete carica. Premete carica. E guardate. Se voi guardate la chat dal vivo, la chat è attiva. Infatti si può scrivere. Adesso scrivo ciao. Ma tanto dopo lo tolgo sto video. Aspettate. Ciao. Vedete che va? Ciao. Poi possiamo anche rimuovere il messaggio. Rimuovi. Ma tanto adesso cancelliamo. E invece se volete che non sia attivata la chat dal vivo, basta che andate. Su, aspettate un attimo. Ragazzi, guardate. Invece se volete disattivare la chat dal vivo, basta che andate su i tre puntini qui in parte. Modifica. Qui è tutto a posto. E poi qua dove viene fuori. No, non è destinato ai bambini. C'è la freccia. Cliccate. E voi per disattivare la chat dovete mettere sia destinato ai bambini. Se mettete sia destinato ai bambini. Guardate. La chat dal vivo, guardate, è disattivata. E se ci clicco sopra, guardate, viene fuori. Questa azione è disattivata per i contenuti destinati ai bambini. E mettendo l'opzione destinata ai bambini, sono disattivati anche, come vedete, la modalità di salvare. Se io clicco su salvare, mi dice che è disattivata. E anche i commenti, che vedete qua, vicino a dove c'è scritto i migliori dei migliori. 23 scritti sotto c'è scritto i commenti, sono disattivati. Allora, mettendo l'opzione destinata ai bambini, sono disattivati sia la chat dal vivo, che la possibilità di salvare la premiere o il video e anche i commenti. Mettendo no, non è destinato ai bambini, sono attivi sia la chat dal vivo, sia la modalità di salvare il video e i commenti. Quindi, se volete attivare la chat, mettete, no, non è destinata ai bambini, come faccio io. Se invece volete disattivare la chat, come è in questo caso, basta che andate su, no, basta che premete sia destinata ai bambini e guardate la chat dal vivo. Non funziona, è disattivata. E niente ragazzi, al prossimo video. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi, attivare la campanellina e lasciate like. Ciao e al prossimo video. Ciao!